Preoccupa l'aumento dei contagi sul territorio regionale. In provincia di Tera, in previsione del fine settimana nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, è stata decisa un'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'Ordine e delle polizie locali per evitare il più possibile assembramenti e comportamenti a rischio da parte dei cittadini. A Silvi, mentre si attende l'esito un sospetto caso di variante brasiliana, il sindaco Scordella ha invitato i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a rispettare tutte le norme anti-Covid. Dalle informazioni che ho io pare che sia un falso allarme, però ovviamente io non ho la certezza, dunque non mi posso esprimere in merito. Naturalmente voglio rassicurare un attimino ai miei cittadini che con i dispositivi di protezione e con le buone pratiche anti-Covid sicuramente riusciremo comunque ad arginare un fenomeno che ormai ci portiamo da tanto tempo. Siamo, tra virgolette, preoccupati anche per la situazione che ci stanno delineando i medici territoriali di base dove ci informano di un aumento di richieste dei tamponi sul territorio, soprattutto nella fase adolescenziale. Dunque siamo preoccupati, stiamo monitorando proprio i giovani per evitare assembramenti che si verificano sul territorio e partiremo sicuramente con più controlli proprio per cercare di arginare questo fenomeno. La ASO sta lavorando con voi primi cittadini un po' per fare il punto della situazione, per trovare degli spazi ed essere pronti per la somministrazione degli over 80. Come amministrazione comunale siamo pronti, abbiamo già individuato dei locali, dei spazi per poter essere utilizzati proprio alla somministrazione dei vaccini. Siamo pronti anche a tutte le future indicazioni che la ASO ci porterà in evidenza e come amministrazione comunale sicuramente chiediamo un'attenzione maggiore proprio sul nostro territorio.